Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari in studio Silvia In apertura alla politica Michele Emiliano e Luigi De Magistris presentano una nuova alleanza all'interno del centro-sinistra Dopo la visita del premier Matteo Renzi questa mattina il governatore pugliese e il sindaco di Napoli hanno visitato insieme a Bari il World Press Photo e hanno illustrato ai giornalisti i termini dell'intesa e i dettagli nel servizio di Roberto Maggi Un contropatto per il sud tra la Puglia e Napoli Michele Emiliano e Luigi De Magistris governatore pugliese e sindaco del capoluogo Campano Stringono una nuova alleanza all'interno del centro-sinistra il giorno successivo alla visita del premier Renzi all'assemblea annuale del Lanci Uno sguardo agli scatti del World Press Photo e poi la conferenza stampa congiunta Vogliamo costruire un'alternativa alla politica del governo Renzi attraverso l'azione amministrativa quotidiana E il segnale netto dopo la stretta di mano gelida con il presidente del Consiglio Svolgeremo dentro la funzione che ci è stata affidata un lavoro di costruzione di un'alternativa perché è evidente che in questo modo non si può proseguire Emiliano tocca tutti i temi caldi del dibattito politico recente a cominciare dal referendum costituzionale L'idea di fare una finanziaria generosa per ottenere un risultato elettorale positivo questa volta non funzionerà, ha preconizzato il governatore che ha aggiunto non farò campagna referendaria per non inacuire le tensioni interne al partito Gli ha fatto eco De Magistris che ha però chiarito che questo non è il preludio per la costituzione di un nuovo gruppo politico Stiamo dando secondo me, tra virgolette, senza sparire presunzioni, anche una lezione di dignità ma anche di determinazione nei confronti di chi ha pensato di soffocarci La soluzione per Emiliano si deve trovare nel congresso del PD non una rottura ma sicuramente una netta presa di posizione Chiama De Caro in salsa nazionale nell'ultima giornata del 33esimo congresso ANCI il neopresidente Antonio De Caro ha risposto alle domande dei sindaci d'Italia Sentiamo Chiama De Caro in salsa nazionale oggi quali sono le domande più interessanti che le hanno poste i sindaci? Mi ero un po' spaventato poi ho detto se riesco a rispondere quotidianamente ai miei concittadini sulle radio private o sulla vostra televisione riuscirò a rispondere anche ai sindaci e così è stato per fortuna, anzi sono stati un po' più tranquilli i sindaci rispetto a quando chiamano i cittadini le domande sono arrivate dai piccoli comuni sono arrivate richieste di risposte sull'attività che l'ANCI deve fare da stimolo al governo per ottenere dei riscontri alle questioni legate all'accoglienza, all'integrazione questioni legate alla sicurezza urbana e per molti comuni anche la semplificazione ci sono molti comuni, soprattutto quelli più piccoli che devono ogni giorno cimentarsi con l'armonizzazione del bilancio con la scrittura dei documenti anticorruzione del documento unico per la programmazione con il blocco del turnover per l'assunzione personale l'idea dei sindaci è quella di essere liberati nel senso che se si liberano i sindaci davvero ci sarà la possibilità di liberare delle energie per far ripartire il paese Il rimpasto nella giunta comunale è l'unico percorso che consentirebbe di invertire la rotta fallimentare di questa amministrazione le opposizioni commentano le voci che parlano di imminenti sostituzioni nella squadra del primo cittadino nei prossimi mesi scrivono i consiglieri di opposizione in una nota il sindaco De Caro non potrà dedicare il suo impegno quotidiano per governare questa città è urgente cambiare molti componenti della sua squadra incapace e che con la sua assenza penalizzerà ulteriormente la città di Bari e di Baresi nelle prossime ore evidenzieremo gli assessori che a nostro giudizio meritano la bocciatura Coltivava marijuana al cimitero un 45enne agricoltore incensurato è stato arrestato a Ruvo di Puglia dai carabinieri dopo una serie di appostamenti l'insospettabile malfattore è stato sorpreso in un capannone poco distante dal cimitero la perquisizione dei militari ha portato al sequestro di diversi arbusti di marijuana parte della sostanza era già stata essiccata e messa in barattoli peso complessivo dello stupefacente circa un quintale e mezzo il contadino è stato arrestato indagine di mercato per la ricerca di una nuova sede degli uffici comunali nonostante l'urgenza prescritta nessuna aggiudicazione all'orizzonte sentiamo nell'indagine di mercato per la ricerca di una nuova sede per gli uffici comunali c'è un particolare punto in cui si parla dell'urgenza del trasferimento per quelli del patrimonio un'urgenza che però non è giustificata visto che ancora non è stato fatto nulla evidentemente quello che sta accadendo è quello che noi abbiamo previsto fin dall'inizio dell'apertura di questa indagine di mercato perché i tempi dovevano essere celeri e non lo sono stati affatto la procedura doveva essere snella non lo è stato affatto avremmo dovuto già sapere quali erano le intenzioni dell'amministrazione comunale e invece ad oggi a quanto ci è dato di sapere brancolano ancora nel buio evidentemente le cose che noi abbiamo detto e continuiamo a dire ormai da mesi erano esattamente vere e cioè era un bando assolutamente particolare era un'indagine di mercato assolutamente particolare che poneva dei limiti molto stringenti alle imprese che avessero voluto parteciparvi e che quindi non ha consentito un'ampia partecipazione da parte dei soggetti interessati questo perché ci interessa perché evidentemente quello che ne risente è il prezzo sono le condizioni economiche offerte dalle imprese a noi interessa che le condizioni economiche siano le più vantaggiosi possibili per la città di Bari rispetto a questo ancora oggi non ci è dato comprendere quello che sta accadendo il progetto solidale pane pagato nato dalla proposta del Movimento 5 Stelle pane in sospeso è stato approvato lo ha reso noto il consigliere Movimento 5 Stelle del quarto municipio di Bari Vito Saliano la proposta partirà non appena sarà stilato un elenco di esercenti che aderiscano all'iniziativa chiunque dopo aver acquistato per sé il pane potrà comprarne dell'altro per i meno fortunati da lasciare in custodia in negozio il fornaio provvederà a sistemare sul banco vendita il pane in attesa che potrà essere ritirato dai più bisognosi in forma totalmente gratuita tutto pronto per Street European Food Truck Festival la rassegna itinerante del cibo di qualità interamente su ruote farà tappa a Bari a partire da oggi fino alla prossima domenica negli spazi di Torre Quetta dopo il grande successo della scorsa edizione che ha registrato 25 mila presenze l'amministrazione comunale ha disposto per tutti i treni regionali una fermata nella nuova stazione di Torre Quetta per migliorare la viabilità Street aprirà al pubblico questo pomeriggio dalle 17 a luna di notte sabato 15 domenica 16 ottobre osserverà orario continuato dalle 11 di mattina a luna di notte dalla Puglia a Molenbeck la storia di una donna pugliese che dal 2012 ricopre il ruolo di assessore alla cultura e all'istruzione nella periferia belga dove il terrorismo internazionale è andato a dannidarsi nelle pieghe dell'emarginazione sociale il suo nome è Annalisa Gadaleta noi l'abbiamo intervistata Annalisa Gadaleta dalla Puglia a Molenbeck uno degli epicentri del terrorismo internazionale purtroppo anche una periferia dell'Europa allora il mio passaggio dalla Puglia a Molenbeck è quasi un passaggio da una periferia a un'altra periferia perché io sono nata e cresciuta in una periferia della città di Bari e poi dal 94 vivo ormai a Bruxelles e più particolarmente a Molenbeck è anche un passaggio da un impegno qui perché sono sempre stata una cittadina impegnata anche quando ero studente a un impegno politico che poi ho mantenuto nel paese che mi ha accolto in Belgio il ministro dell'interno Alfano ha parlato proprio di come si deve cercare il più possibile di tagliare e diminuire l'emarginazione sociale perché questa è la vera fonte del terrorismo internazionale è chiaro che l'emarginazione sociale in cui per esempio a Molenbeck è molto presente siamo il secondo comune più povero di tutto il Belgio con cifre altissime rispetto per esempio alla povertà infantile ed è chiaro che lavorare sulla povertà e permettere alle persone di costruirsi una vita migliore economicamente e culturalmente parlando una delle grandi priorità oggigiorno in Europa rispetto sicuramente a certi gruppi che sono più svantaggiati più particolarmente i gruppi di migranti opera, balletto, teatro e grande arte il Multicinema Galleria presenta il cartellone degli eventi 2016-2017 tra gli appuntamenti in programma grande attenzione al mondo del balletto internazionale con i migliori allestimenti del Royal Opera House di Londra e del Metropolitan di New York per il teatro a partire dall'autunno saranno distribuiti tre spettacoli della Kenneth Branagh Company e infine una novità l'adesione al consorzio Unici Cinema prima di lasciarvi vi ricordo che potete seguire notizie ed aggiornamenti sul nostro sito internet www.telebari.it ed ora vi lascio al meteo Un saluto a tutti da Edoardo Ferrara di Trevi Meteo nella giornata di venerdì tempo perturbato sul sud ovest europeo per una circolazione ciclonica più stabile ancora freddo invece sull'Europa centro-settentrionale per quanto riguarda la nostra penisola sensibile peggioramento al nord con piogge temporali anche di forte intensità rovesce temporali che avanzeranno anche al centro risultando più intensi sulla Toscana nord-occidentale temperature insensibili rialza al centro-sud per forti venti di scirocco andiamo infine al sud dove invece il tempo risulterà più asciutto e anche parzialmente soleggiato fatta eccezione per maggiore copertura sui versanti ionici con qualche piovasco temporali e rovesci infine sulla Sardegna soprattutto settentrionale aggiornamenti in tempo reale sull'app gratuita di Trevi Meteo grazie a tutti Grazie a tutti.